Anche di giorno Budapest è sempre più stellata, no non parliamo di astri veri e propri, ma delle stelle Michelin assegnate dall'omonima guida per gourmet nelle principali città europee. 519 ristoranti quest'anno, la capitale ungherese ne conta 5, capitanati dai veterani di Onyx, i quali spiegano guadagnare il riconoscimento è difficile e mantenerlo ancora di più. Dopo aver ricevuto la stella un ristorante deve prestare maggiore attenzione alla qualità, diventare più esigente e comprare ingredienti più costosi, mandare i propri dipendenti a fare i corsi di formazione più prestigiosi, tutto ciò si riflette poi nel prezzo del menù. Ma maggiori costi si traducono anche in margini minori, i ritorni della stella, spiegano gli esperti, arrivano piuttosto sotto forma di notorietà che gli chef sfruttano in attività complementari. A festeggiare è soprattutto il settore turistico, nel caso di Budapest l'alta cucina è molto popolare tra i vacanzieri in arrivo dall'estremo oriente e dalla penisola scandinava che scelgono la città a tratti proprio dalle indicazioni della guida francese. Abbiamo notato, dice il vice sindaco, che da quando Budapest ha dei ristoranti stellati Michelin, un numero sempre maggiore di turisti vengono soltanto per mangiare in questi esempi d'eccellenza, i quali in confronto agli standard internazionali hanno anche dei prezzi ragionevoli. Effetto che per questi due giorni sarà moltiplicato per 20, ovvero il numero complessivo di chef stellati provenienti da ogni angolo d'Europa che si stanno sfidando ai fornelli della finale del prestigioso concorso Bocuse d'Or. Almeno fino a mercoledì, insomma, tutte le strade del famoso libretto rosso portano a Budapest. La prima guida dei fratelli Michelin, che raccomandava ristoranti agli automobilisti in Francia, risale a più di cent'anni fa. Il loro scopo era innanzitutto spingere la domanda di pneumatici nuovi. Oggi la Michelin è forse la guida ai ristoranti più prestigiosa del mondo, con dozzine di chef che competono per aggiudicarsi una stella sulla mappa. Asbot Beatrix, Euronews, Budapest.